ciao a tutti bentornati inizio con questa immagine per commentarvi parma l'ecco perché sinceramente come dire la squadra dell'ecco mi è anche simpatica però noi l'andata siamo stati penalizzati l'abbiamo persa tra due anche per merito del campo di patate che c'era ma stavolta stavolta eravamo a giocare al tardini al tardini c'è un manto erboso che fa invidia a tante squadre e quindi stavolta è finita diversamente finita 4 a 0 e mi spiace per il lecco che retrocede ma che mi era simpatica come squadra che era salita in b ma purtroppo è così due commenti sull'eco un lecco che è a passo nettamente di categoria inferiore al parma e posso dire che in attacco se la può giocare in serie b perché giocano abbastanza bene molto verticali devo dire abbastanza bene però la difesa è una roba che c'è in confronto io c'ho baresi maldini cannavaro turam in difesa tutti e quattro insieme cioè la difesa dell'eco la posso perforare anch'io 50 anni e quindi a quel punto lì dico ok abbiamo vinto 4 a 0 ma i demeriti dell'eco ci sono tutti oltre ai meriti del parma che sicuramente è più forte è in dubbio quindi allora bene abbiamo vinto 4 a 0 3 punti manca pochissimo alla fine la parola serie a sinceramente qualcuno non la vuol dire ma io la dico la dico perché ormai impossibile andare in serie a salvo essere proprio dei pistola quindi siccome io spero che non siano tutti dei pistola a questo punto direi che mercoledì primo maggio per la festa del lavoro ci godremo bari parma che potrebbe diciamo indirizzare ancora di più il parma verso la serie a vabbè con una vittoria sarebbe fatta è già praticamente fatta adesso figurati dopo ma vincere a bari non sarà proprio una passeggiata però potrebbe anche diventarlo dipende tutto come avete visto contano tanto gli episodi e quindi se pronti via fai gol poi puoi fare anche il raddoppio facilmente e quindi insomma bellissima prestazione del parma grandissima prestazione di bernabè che ha fatto anche due gol altre volte ci era andato veramente vicino dispiace per bene che si è fatto male ma oltre ai gol di miaila bel gol anche miaila gol di camarà alla fine però quello che posso dire che possiamo già passare ai titoli di coda i titoli di coda sono questi qua allora il parma per me in serie a ci va e quello lì dopo potete dire quello che volete per me è così però a questo punto cosa succede succede che noi siamo messi un po come l'eco in b cioè l'eco in b c'è l'attacco che può anche andare bene il centrocampo ancora ancora la difesa fa veramente cagare noi in serie a siamo nello stesso modo ecco non proprio cagare come quella che abbiamo visto dell'eco al tardini ma diciamo che siamo messi male per la serie a quindi se andiamo in serie a caro krauss che ci hai messo tanti soldini ti conviene se vuoi mantenere la categoria faticosamente conquistata ti conviene investire investire ma non spendere 200 miliardi di euro e comprare 10 giocatori ne devi comprare tre o quattro un attaccante forte ok uno forte di categoria due difensori almeno almeno due difensori e magari un centrocampista in più di qualità per dare anche un attimo di ricambio a bernabè o a steve cioè ci vuole una pedina per reparto ma nel reparto difensivo ce ne vuole due perché il reparto difensivo fa schifo in serie a dai là cioè il senso tu pensi che vabbè siamo contenti del rinnovo di bernabè sicuramente perché è un talento sono contento per bonnì però ma me sinceramente di osorio balo ne facevo anche a meno balo gli voglio gli posso dare il beneficio del dubbio del dubbio nel senso che potrebbe anche fare che come magari abbia un'esplosione o pian piano ecco però osorio credo che ormai non ci siano dubbi che devastare all'oratorio e basta cicci zola io in alo metterei sicuramente in panca a favore di uno che dia maggiore garanzie e questo è quanto sulla partita non c'è niente da dire ragazzi il lecco era troppo inferiore al parma il parma sicuramente non era il parma di parma catanzaro che sono andato a vedere il primo aprile o il 2 quello che l'era perché se col catanzaro che anche se sicuramente una squadra diventamente più forte dell'eco giocavamo la metà di quello che abbiamo giocato come grinta e impegno con l'eco a noi vincevamo tranquillamente invece santi per da 2 a 0 quindi diciamo che il parma quello cos'è che mi è piaciuto mi è piaciuto che ci ha messo l'impegno cioè anzi dirò contro l'eco ce n'ha messo anche troppo cioè nel senso allora a tutti piace vedere la squadra giocare bene però non ho capito perché il parma ha dovuto dare una dimostrazione così forte contro l'eco quando bastava vincere anche 2 a 0 e controllarla quando in altre partite non si è impegnata proprio niente ma niente e si è portata a casa delle sconfitte o degli 0 a 0 ecco questo mi sta sul cazzo veramente perché giocando così con l'eco mi fai capire che se giocavi a metà della stessa grinta che ci hai messo con l'eco con altre facevi dei punti comunque questo io non so di che colpa forse Pecchia mi ha ascoltato è entrato un po nella testa perché questi qua in questa partita qua il lecco l'hanno sotterrato cioè non è che solo sono più forti ma sono più forti ma si sono impegnati perché esser più forti poteva voler dire stare in campo tipo scapoli ammogliati o partita amichevole estiva e giocarsela così fare uno a zero e poi tenerla sotto controllo perché tanto questi qua non passano non riuscivano se ti mettevi arroccato non riuscivano neanche a superarla a metà campo hanno avuto qualche occasione perché il parma proprio giocava garibaldina via tutti in attacco cioè la difesa non esiste tanto questi qua li abbiamo già fatto due o tre gol e quindi poi qualche occasione loro le hai presa ma pochissime giusto perché eri completamente sbilanciato se no non prendevi niente e quindi vabbè comunque contento della partita adesso finiamo il campionato al più presto e caro Kraus concentrati bene perché mi raccomando non prendermi il giovane che cacche ne so norvegese albanese tirolese tutto quello che ce ne vuole lascia perdere lascia perdere prendi non spendere 50 miliardi per comprare buzzi o roba del genere ti spendi i milioni giusti per prendere tre o quattro buoni ma soprattutto metti a posto la difesa perché è ancora a brodo cioè in serie A io non posso immaginare di vedere Balog e Cosoli e Osorio che vengono affrontati da Leao e Svarascheglia e quella gente lì dai là e Lautaro Martinez o roba del genere e Turam cioè ci fanno il culo quindi è vero che non è che affrontiamo solamente Milan, Inter, Juve e Napoli però in serie A io vorrei fare una salvezza tranquilla almeno la salvezza tranquilla per il primo anno solo che per farlo devi prendere degli nesti mirati non puoi mica andare a casa guarda ma anche solamente in Venezia con quei difensori lì il barbuto e non ricordo mica il nome cioè se hai qualche giocatore che comunque ci mette la grinta figa in B sei un Turam o un Cannavaro in serie A no però in serie A io invece e Losorio e il Balog non ce li vedo ragazzi non ce li vedo perché giusto quando giochi col Comodo giocherai o con il Venezia o con la Cremonese o con quello lì o quando giocherai non lo so con chi con formazioni medie ma quando vai a giocare con quelle dell'alta classifica zona sinistra della classifica ti fanno il culo dai là in difesa o fai difese contropiede sperare bene di non beccare gol e partire in contropiede come un missile oppure se vuoi giocare da squadra giocare bene devi avere una difesa che è un po' solida che riesce a impostare che riesce a difendere con sicurezza anche nei colpi di testa ragazzi ma quanti ne facciamo fare senza neanche quasi risuettare e allora niente dai chiudo perché diventa lungo poi c'ho il mal di gola c'ho un pochettino mal di gola sapete già in modo anche matematico la promozione ma tutto ci fa ben sperare un saluto ciao a tutti forza parma grandi giallo blu ciao